Hola love, ciao, hola chiche, hola chichi, ciao, 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 allora prima che torni Filippo e che non abbiamo più, oggi ho la pelle lavata, quindi le tengo sciolti perché tutte vi piacciono sti la pelle sciolti da morire e quindi giro questo video molto alla svelta perché poi torna a pippezze e li devo ridare la camera. Allora vi faccio un haul, tutta roba a Kiko che ho comprato, roba che mi ha mandato una ragazza e un piccolo haul di quello che ho preso in questi giorni, comunque tutte mi chiedete delle lenti di Twilight, sono di Pinky Paradise e vi lascio il link nell'info box, cominciamo, allora Kiko se lo sapete e se lo sapete penso lo sapete tutte, c'era lo sconto, prendi 4 prodotti, 2 le paghi, i 2 più costosi le paghi e i 2 se le regalano. Allora io ho preso la palette, allora io questa palette l'avevo già ad occhiata, ora vi voglio fare se riesco una foto su Instagram, ma io questo Instagram, questa palette l'avevo già ad occhiata, ci sono due palette, quella con gli shimmer e quella con i matt, questa è con i matt, la palette mi sembra costi 16 euro, non vorrei dire una cazzata, la mia è la 01, allora i colori sono questi, ho cercato di utilizzare quasi tutto, sono stra 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 pigmentatissimi, cioè veramente una pigmentazione spaziale e poi hanno bene o male tutti i colori che ultimamente cercavo, cioè io purtroppo, mi dovete scusare con queste luci, vediamo se mettendomi contro luce, vedete un po' di più? Ah forse sì, ok, sono molto pigmentati e devo dire che mi piace in sacco, ora mi rimane tutte le mani sporche e ho fatto il trucco di oggi con questa qui, poi ho preso sempre della Kiko lo stesso giorno, l'eyeliner grigio che vedete sugli occhi, che vi ho già fatto vedere qua, eccolo qua, se non mi sbaglio a me, mi sembrava di averne, ah no che era quello dell'essenziente, questo è eyeliner grigio, il mio è lo 02, c'ha lo scopolino rigido, ah no questo è quell'altro, aspettate, cacchio l'ho messo, eccolo, c'ha lo scopolino rigido, ok, e per questo si dà molto molto bene, però non so, negli occhi non ha una bellissima resa, perché tende a rattrappirsi, vedete, e insomma, come colore devo dire che è molto bello, però ecco, vi faccio vedere pure quello dell'essenz, poi vi farò vedere quello che mi ha mandato la ragazza, ok, ce la posso fare, dunque, poi ho preso l'ombretto in stick, che non lo volevo prendere, però l'ho preso, perché comunque c'era questo sconto, io ho preso lo 02, ve l'ho fatto vedere oggi in una foto di Instagram, che sotto avevo anarchi di Nabla, e sopra questo, no, cioè voi non potete capire che l'ho ribaltato tutto su, guardate, c'è un Devis che mi hanno, è impossibile veramente, lo vedete, ok, che poi per l'appunto in camera di Filippo non c'è un cavolo, uno, un cavolo di fazzoletto, oddio signore, guarda che pazienza, non ce la posso fare, dai, ami, ce la puoi fare, allora, ed è questo, cacchio, ma perché è così liquido? Allora, oggi vi ho fatto una foto di Instagram mettendomelo sulle labbra, allora, ragazze, cioè fanno panico paura sulle labbra, io, come sapete, ho sempre odiato i metalli, insomma i metal, e invece questo fa panico, qual è il problema? che appena tocca acqua, appena l'orecate, se ne va, quindi niente, non può essere usato come, ui, 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 mi già mi danno noia, non può essere usato come rossetto, però il colore è bellissimo, quindi meno male poi vi farò vedere quello che mi stavo regalato da sta cica, e poi mi arriva pacchetti a casa, rica, io non so chi me l'ha mandato, tutti i giorni me ne mandate uno, io, come fa a non amarvi? Allora, poi ho preso due matite, allora, due matite, questa è sempre della collezione Forzer, ed è viola, questo viola qua, allora, è un viola bellissimo, anzi, devo dire che, visto che volevo il viola sotto gli occhi, ci posso mettere questo, ecco, esatto, ce lo devo mettere prima, e metterci il marrone, di modo che mi sarebbe venuta la sfumatura, e poi il viola, forza Ami, e poi invece ho preso questa qui, ed è la, allora, questa è la 02, 05, e questa invece è la 02, sempre matita occhi, eccola qua, molto bella anche questa, sempre matita occhi, ma io uso come matite labbra, ci metto sotto il primer base, se avete comunque un colore che si addisce tramite rossetto, comunque riuscite a fare delle belle accoppiate, vi devo dire che reggono pure, allora, perché ci sono dei colori che fanno paura, e qui ci siamo, poi, l'ultima cosa che ho preso, è questo smaltino, che è questo che ho su, con sempre il top coat della Kiko, questo è un marrone scurissimo, mi piace tantissimo, perché ultimamente d'inverno, purtroppo, non mi piacciono molti colori chiari nelle mani, non so perché, forse perché sono bianca, comunque da avere, mi ero dato un po' d'abbronzante, ero arrivata ad essere un bel colorino, a parte mi avevo due effetti, perché c'hanno da venirmi, cioè, guardate qua, e, però, appena te lavi, naturalmente se ne va, e questi sono i miei acquisti, l'altro, ah no, altro acquisto che ho fatto l'altro giorno e ve lo devo far vedere perché fa panico, è questo qui, allora, se vi ricordate la lavi, mi regalò questo, della Wicon, eh, raga, queste, come base luminante, c'è, oh mamma, ehm, io mi ero fissata con questo ombretto, ho fissata, fissata in Movovo, allora, questo è lo 01 Metal in Rose, 10 euro di ombretto, cioè, una sassata ne ha a testa, proprio, una sassata, però, vabbò, allora, la confection è questa, tutta stra glitter, mi fanno morire, ed il colore è questo, allora, io ve lo swatcho, a parte che sono stra cremosi, cioè, veramente, ve lo metto qui, è leggermente rosato, però, col trucco di oggi non mi ci sta molto bene, ma, chi se ne fredda, io ve lo faccio vedere perché l'ho comprato, essendo molto cremoso, con questo pennello non va bene, bisogna usare il pennello piatto, guardate cosa non è, cioè, illuminante, come se non ci fosse un domani, è fantastico, oramai mi conoscete, no? Non mi sono fatta neppure la nappa oggi, vabbè, veramente bello, vabbè, anche l'illuminante è favoloso, però, e poi c'è, vabbè, Anarche, è fantastico, gente, non me lo sono dato perché non volevo, ecco, e poi, mi è arrivato un pacchettino da una ragazza, disgraziate voi, e mi ha mandato questo qui, dell'Arctic, che è lo 01 e l'illuminante, io volevo l'ombretto, questo qui, il rosso, l'altra mattina arrivò, uscite per l'ombretto rosso e finito, cioè, quando voglio qualcosa finisce, questo, allora, a vederlo e swatcharlo è fantastico, sui toni del rosa, ecco, se lo vedete, il problema degli ombretti, degli illuminanti della Ico, è che quando li swatch così, spaccano il culo, quando poi te li vai a mettere, però, molto bello, e poi mi ha mandato due cose esagerate, ah, poi io l'altro giorno ho comprato un'altra cosa, la faccio qui dopo, e poi mi ha mandato questi due, allora, uno è lo 02 e uno è lo 03, mi deve aver sentito dire, che ultimamente mi piace questi metal, io l'altro giorno arrivo a casa, mi trovo il pacco, e guardate cosa mi ha regalato questa pazza, per l'appunto, la stessa mattina, ho trovato la ragazza della Ico, e mi fa, oh, quanto bello questo rossetto, io, ma qual è? E lei questo, lo 02, sono andata lì, lo volevo prendere, 10 euro, visto che oltretutto l'altro, non è che mi ha fatto impazzire della Ico, anzi, se lo trovo, lo metto fuori, eccolo qua, io ho lo 07, l'ho rotto, no, cioè, veramente, guarda, mi fa schifo, l'ho rotto, mi fa schifo, cioè, guardate, bimbe, perché? Mi fa ca... Vabbè, teniamolo leggero, tanto poi, quando il rossetto è rotto, vaffanculo, Dio! Eh, infatti era meglio visto, non ero rimasta molto soddisfatta, perché non mi era durato troppo, no, ci sono rimasta male, mi sei rotto, oddio, ma anch'io ce l'ho tirato fuori tutto, capito? Mio Dio, ma perché? Vabbè, ci sformo, ci sformo perché so, uno, un'idiosa, perché, cioè, non ho garbo, non ho un cazzo di garbo, mamma, cioè, l'ho tirato fuori tutto, cioè, dai, porca, puttana, allora, e questo è lo 02, io non ho mai amato, come sapete, a figurarsi i rossetti, ora avrò sto metal, sulle labbra mi intriga un sacco, ve lo faccio vedere, tirandolo non tutto fuori, naturalmente, secondo me è il classico rosso, per le feste, ecco, molto molto bello, vi giuro, quella mattina su di lei faceva, trucco basic, ciglioni, ora vabbè, lei non ce li aveva, ma mettete, Trucco basic, ciglioni, l'altra mattina io me lo sono messo, trucco basic, ciglioni, e questo, non avete bisogno di altro, quando un rossetto è così potente, e così bello, non avete bisogno di altro addosso, e poi mi ha regalato anche lo 02, che in realtà non è altro che il matt, che però, eccolo qua, cioè a parte anche a vederlo, è tutto un programma, vabbè, io, io da quanto ho letto sulla lettera, la ragazza si chiama Francesca, che io ho già ringraziato, però Francesco, e poi ringrazio tantissimo, le ragazze della Chico di Siena, che mi seguono sempre, un bacione enorme, allora, e fin qua, ci esemo, l'altra mattina, sono andata, non mi ricordo dove, caddi, a questo non mi ricordo, e ho preso questo ombrettino, della pupa, allora, il mio è lo 01, allora abbiamo, al di sopra la crema, cioè comunque, l'ombretto così, ok, non è che sia tutto sto granché, però, eccolo qua, e al di sotto, abbiamo i glitter, visto che i glitter, ultimamente, mi stanno a piacere, ci ho rimesso, il cosino di plastica, perché altrimenti, facevamo un danno, e li faccio vedere, eccoli qua, e di, magari si mettono sopra, non mi ricordo, il prezzo, di questo prodotto, devo essere sincera, non costano poco, lo sapete, è la roba della pupa, ed è lo stesso, che fa parte, di lui, è la stessa collezione, la stessa collezione, di questo, line pupa, questo merita, è un bel rossetto, devo dire, che ha anche un'ottima, non abbiamo più busto, di qua, un'ottima tenuta, sbocciarli alla sinistra, cosa che odio, eccolo qua, ha un'ottima tenuta, e è un rossetto, che può valere, io purtroppo, i rossetti, ve li dimentico, ora vi se li metto, lì sopra, questo invece, devo dire, che per adesso, mi ha lasciata abbastanza, poco felice, me lo so da, ho l'altra mattina, e mi sono data, soltanto questo, in crema sopra, e ciò, ovvio, la giù ce la posso fare, e, ok, ho fatto testa, basta, tanto non ce l'avevo più, da far vedere in mente, vabbè, mi è arrivato il fake, che lo vedete, nel, nel vlog di oggi, che vi ho fatto vedere, ve lo lascio qua, mi piace lasciarvi le cose, se qualcuno sa, come si fa, a mettere qua, Instagram mio, col cosiddetto, di Instagram, il mio Camilla, vado in giallo, ho preso quello, che è, lo skin frost, so fucking gold, e fa, che gare, ultimamente, stanno a fare, è lo stesso, della Nastasia, fanno questi illuminanti, e sono praticamente, a parte, fanno la pasta, cioè, quando voi andate a swatch, a far pasta, e poi, il risultato, è questo, ok, tutto fa, all'infuori, glitterare, meno male, c'ho quello, vero? Anzi, ora mi ci do pure, un po' di skin frost, va buono, bimbe, vi lascio, vi voglio far vedere, anche questi altri prodotti, io vi mando, un grande bacio, vi faccio, tanti, 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 a voi, siete il mio più grande sostegno, sempre e comunque, ciao morine, e un mese spegnio, vai!